Il titolo del Corriere dello Sport. La Roma ha ancora bisogno di Francesco Totti. Come scrive Stefano Barigelli sul Corriere dello Sport, la Roma ha bisogno di una rosa larga e varia per competere in Italia e in Europa con una concorrenza tremenda. Ha bisogno di giocatori che possano cambiare il verso di una partita, di inventare qualcosa quando davanti c'è una squadra che si barrica come ieri il Bologna. Ha bisogno di esperienza quando ci sono minuti finali da congelare, di carisma se è necessario accendere il tifo dell'Olimpico. Ha bisogno, come tutte le grandi squadre del resto, di giocatori in grado di offrire soluzioni diverse. Ha bisogno, per dirlo con una parola di cui spesso si abusa, di qualità. Ha bisogno, insomma, ancora di Francesco Totti. www.pronosticonline.com Tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto, inoltre help Serie A, help Premier League, help Liga, help Bundesliga. Tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti partita per partita per passare alla cassa. Su pronosticonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati. Pronosticonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni. Scommettete sempre responsabilmente.